Ciao ragazzi! Oggi in questo video voglio presentarvi l'ultimo libro che ho scritto. Si tratta di una lettura facilitata in russo, pensato proprio per chi ha deciso di imparare questa lingua e vuole provare a leggere qualche cosa in originale. Eccolo qui, ho tolto un secondo lo sfondo dietro così almeno lo vedete bene senza problemi, senza sovrapposizioni. Questo libro l'ho scritto di recente, in questi ultimi mesi, e ho deciso di scriverlo perché in generale manca del materiale in lingua russa per studenti italiani, soprattutto se penso alle letture facilitate che ci sono per esempio per l'inglese, per il tedesco, lo spagnolo, il francese, via dicendo, per il russo è ancora abbastanza difficile trovare materiale. E pertanto mi sono detto, perché non provo a scrivere io un libro dove racconto dei miei viaggi in Russia e altri paesi dell'est Europa utilizzando proprio il russo? E ho pensato di farlo quindi in una maniera didattica, utilizzando quindi un linguaggio semplice, più o meno un livello a due, frasi brevi, termini semplici, e mettendo anche alla fine di ogni capitoletto degli esercizi di comprensione oppure di utilizzo del lessico o della grammatica. E alla fine del volume ci sono poi le soluzioni. Il libro è quindi pensato proprio per lavorare in maniera autonoma da autodidatti. E inoltre ho reso anche disponibile su YouTube, sempre qui sul mio canale, tutti i capitoli letti da madrelingua. E così potete anche ascoltare e migliorare la vostra comprensione, il vostro listening. Se siete interessati, adesso innanzitutto vi mostro qualche pagina direttamente qui nel video. Ma se siete interessati potete scaricare la preview gratuita, trovate il link nei commenti. E inoltre se volete acquistare il libro è disponibile su Amazon. Vi lascio il link qui sotto. Cliccando direttamente su questo link si aprirà la pagina del libro e potrete acquistarlo. Nel caso decidiate di acquistarlo vi auguro sicuramente una buona lettura e un buono studio della lingua russa. Ma vi chiedo poi gentilmente di lasciare anche una recensione sempre su Amazon, perché è molto importante sia per me per sapere se ci sono degli errori, delle imperfezioni e via dicendo, ma anche proprio per tutti coloro che vorrebbero magari acquistarlo. Almeno possono avere anche un parere diretto e soprattutto super partes da parte vostra. Perché certo io posso dire lo scritto io, acquistatelo, però è giusto che siete voi a dare un parere onesto su questo libro. Bene, questo è tutto. Quindi vi lascio adesso una rapida preview del libro direttamente qui sul video. Bene, spero che vi stuzzichi l'idea di acquistare il mio libro e se lo farete non ve ne penterete. Ovviamente scherzo. Beh, spero che vi possa essere utile e sono aperto a qualsiasi critica, purché costruttiva. Di nuovo buono studio e a presto. Mettete mi piace al video, iscrivetevi al mio canale. Normalmente faccio video in inglese, ma capita anche che ne faccia in italiano. In ogni caso tutti i video hanno sottotitoli sia in inglese che in italiano e spesso anche in russo. E niente, se volete supportare il mio canale potete farlo su Ko-Fi oppure su BuyMeAkafi. Potete regalarmi un caffè, offrirmi un caffè, il prezzo quindi di soltanto un euro e aiuterete a sostenere il mio progetto di diffusione di amore per le lingue. A presto, ciao ciao!